A Morbegno la mostra dedicata alle realizzazioni valtellinesi dell'architetto Luigi Caccia Dominioni. Una vita a progettare costruzioni, case, chiese, edifici a Milano, in Valtellina, nei Grigioni e anche nel Principato di Monaco. Luigi Caccia Dominioni è il grande vecchio dell'architettura italiana, classe 1913, attraversato con creatività tutto il Novecento. Una mostra a Morbegno fino al 7 dicembre rende omaggio alla sua opera in Valtellina e in Svizzera. Realizzazioni che si integrano nel paesaggio alpino e che rispettano l'inventiva dell'architetto ma soprattutto la richiesta del committente. È un servizio che ho sempre fatto ai miei clienti, non è un lavoro che facevo per me, facevo per loro. E allora sono sempre stato una persona onesta in questo senso, un architetto onesto che ha lavorato nell'interesse del cliente. La mostra in due diverse collocazioni al convento di Sant'Antonio sono esposti i materiali relativi alle opere valtellinesi e grigionesi. Nella galleria di piazza San Giovanni invece le foto in bianco e nero realizzate da Vincenzo Martegani. Io ho vissuto tutta la mia vita da bambino, l'ho passata a Morbegno e i periodi di vacanza appena posto io tornavo a Morbegno. Siamo in chiusura, adesso le notizie passano al meteo. Arrivederci.